Ciao a tutti, Liberti una volta per tutte dal Narcisista Maligno. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, chi è il Narcisista Maligno? Beh, il Narcisista Maligno è un narcisista, diciamo così, che in più, diciamo... e quindi un narcisista è una persona che basa i suoi rapporti fottendosi in altamente dei diritti altrui, la manipolazione diventa l'elemento fondamentale del rapporto che entra, che instaura col prossimo anche nelle relazioni sentimentali affettive e il Narcisista Maligno in più ha la tendenza, diciamo così, a volerti danneggiare in qualche modo, perché questa rabbia dentro, che in qualche modo scarica sulle persone con le quali interagisce, con le quali interagisce, generando forti sofferenze, ma le ripeto, però le sofferenze le genera chi si aggancia, quindi è importante liberarsi. Io, tra l'altro, farò un seminario il 10 gennaio 2020 a Torino, proprio su come conquistare le persone difficili e come liberarsi dai narcisisti, quindi chi fosse interessato, il riferimento è 333 15 11 703, 10 gennaio 2020, però puoi mandare un messaggio di tutte le info. E' da tenere presente che, appunto, spesso confondiamo, no? No, confondiamo le persone difficili con i narcisisti, invece le persone difficili sono persone che, me e se, sono persone che meritano anche, diciamo, di essere conquistate, quindi dedicare energie. Perché? Proprio perché sono difficili, difficili alla conquista, magari sono persone che hanno dei valori, che possono essere interessanti, però non dobbiamo considerare il narcisista facente parte delle persone difficili, perché il narcisista ha caratteristiche completamente diverse, soprattutto poi il narcisista maligno, oltre a, diciamo, a non amarti, ti danneggia pure, perché dice, il narcisista normale, pure non mi ama, ma magari mi danneggia meno, cioè ti autodanneggi. Il narcisista maligno magari cerca di danneggiarti finanziariamente, cerca di fregarti economicamente, insomma, ha tutta una serie di cose, perché anche ha una disonestà di fondo, diciamo così, è una incapacità di avere qualunque rimorso, anche se poi ti danneggia. È una persona anche irresponsabile, che è incapace anche talvolta di sostenere, diciamo così, un'attività lavorativa come si deve a lungo termine, quindi spesso poi appunto cerca di approfittarsi delle altre persone anche a livello economico. Quindi è una persona dalla quale bisogna riconoscere e allontanare dalla vita, e non confondere con altre situazioni. Comunque il seminario lo farò come allontanare il narcisista maligno, come sganciarsi, come invece conquistare le persone difficili, a Torino, venerdì 10 gennaio 2020, alle ore 20.45, il riferimento è 333 15 11 703, adesso ti darò altre info. Però nel frattempo ti ricordo che, volendo puoi anche abbonarti al canale, chi non potesse partecipare ai seminari, con l'abbonamento al canale avrà poi le registrazioni dei video, dei corsi che faccio, insomma. Quindi quali sono le caratteristiche fondamentali del narcisista maligno? Come riconoscerlo? Beh, ha tutte le caratteristiche, tutte le prerogative dei narcisisti, quindi vatti a vedere i numerosi video che ho fatto sui narcisisti. Comunque tende a fare love bombing, inizialmente. Il narcisista maligno ha questa prerogativa, che inizialmente si presenta come la nonna, diciamo così, è un lupo cattivo travestito da nonna, si presenta buona all'inizio. Però già dall'inizio capisci che ha qualcosa che non va perché inizierà a parlarti di persone che ce l'hanno con lui, avrà delle rancore. Spesso utilizzerà degli scarichi di tensione senza motivo che riportano proprio al rancore, alla rabbia, toccarsi il naso spesso in questo modo, raschiare. Lo sguardo tende ad essere uno sguardo freddo. Come tratti fisiognomici, ad esempio, è difficile trovare un narcisista maligno con gli occhi grandi. Normalmente gli occhi grandi e distanti. Normalmente, questa è un'indicazione, non è che di uno che così dici, però normalmente un po' gli occhi ravvicinati, molto ravvicinati e piccoli. Sono una delle caratteristiche, diciamo, perché comunque la fisiognomia ha qualche caratteristica ancora. Questo è da, come dire, da prendere col beneficio di inventario, però, diciamo, si può prendere come un'indicazione. Se si aggiunge ad altri tratti, poi, appunto, parlano sempre mai degli altri, tendono ad avere un po', quindi una sindrome, diciamo così, paranoide, diciamo, possiamo dire, no? Che, nel senso che gli altri ce l'hanno sempre con loro. hanno mancanza di rimorso, vedi? Cioè, hanno proprio, non hanno nessun rimorso. Credono che, di essere sempre al centro dell'attenzione. Utilizzano gli altri, anche te, ma tu te ne potrai accorgere meglio guardando come si comportano con gli altri, come pedini, diciamo così, per raggiungere i loro obiettivi. E non si sentono colpevoli, diciamo, di comportamenti che magari possono anche danneggiare le altre persone, arricchare del male, arricchare dei danni, e tendono a screditare le altre persone. Ecco, quello che tu vedi che una persona fa con gli altri, non è che poi con te non lo fa, lo farà anche con te, soltanto in modalità diverse, o soltanto tu non vedi queste cose. Quindi, se noti questi segnali, intanto dovresti non agganciarti, perché questo dovrebbe essere innescarti un meccanismo di difesa. Già, ripeto, se vedi che una persona dall'inizio fa l'off-bombing, si manifesta in un certo modo, fa di più di quello che normalmente può accadere, beh, qualche sospetto dovresti averlo, perché altrimenti se non inneschi qualche valutazione, cioè le persone che ti vedono oggi e si dichiarano follemente innamorate domani, beh, insomma, tieni presente che è anomala la cosa, no? E poi, appunto, il narcisista maligno, oltre ad allontanare, a cercare di isolarti, metterà molto l'accento su denigrare inizialmente altre persone che ti circondano. Quindi questo è un meccanismo che manifesta molto più, in modo molto più manifesto rispetto ad esempio ai narcisisti non maligni. E quindi tenderà a denigrare molto di più le persone che ti circondano, a svalutarle, a cercare di screditarle, a cercare di, diciamo, di dirti, di farti capire che le altre persone ce l'hanno con te. Poi, questa spinta che ha a screditare, a denigrare le persone durante la fase di gaslighting in cui ce l'hanno con te tenderà a manifestarla anche nei tuoi confronti. tieni presente che il narcisista maligno spesso può apparire anche come una persona affascinante e affidabile, anzi, tende a puntare proprio il suo mascheramento, il suo travestimento sui proporsi come una persona molto affidabile. Una persona molto affidabile, una persona che generalmente utilizza, utilizza, diciamo, diverse cose, diverse situazioni per poter, diciamo, in qualche modo manipolare gli altri. Quindi, la caratteristica è quella. Normalmente sono anche persone istruite, o che comunque hanno imparato da autodidatti, insomma, perché sanno riconoscere, diciamo, l'animo umano. E quando si impegnano in qualcosa, diciamo, tendono a farlo con minuzia, quindi non sono persone che si improvvisano. Ecco, quindi devi tenere presente questo, no? Quindi questo, e questo dovrebbe farti scattare subito un meccanismo di difesa, ma il vero grande meccanismo di difesa per allontanare è la tua dignità. Cioè, nel momento in cui vedi che una persona inizia a non rispettare, o anche non rispettare le persone che a te sono care e si arroga il diritto di dirti ah, quello si comporta male con te, questo fa quello, questo fa male. Difida, difida dalle persone che ti danno consigli non richiesti. Questo, guarda, perché inizialmente ti dà consigli, poi diventano quasi dei ricatti, quasi delle imposizioni. Per cui, il meccanismo di difesa iniziale è fondamentale, perché, come dire, è come dire, nel pugilato, se tengo la guardia alta, beh, sarà più difficile che mi colpisci, o comunque, se colpisci, sarà più facile che vai a colpire la guardia, mi colpisci le braccia, non mi colpisci il mento, diciamo così, no? E questo, invece, se vai subito così, guardia bassa, e mento alto, il colpo lo senti molto di più. poi puoi reggerlo, però bisogna stare attenti. Ecco, quindi, comunque, come, invece le persone difficili hanno caratteristiche completamente diverse, che non c'entrano con nulla, sono magari persone iperlogiche, che hanno alcuni valori, alcune credenze, quindi è importante nella conquista ricalcare il valore e le credenze, ma è fondamentale distinguere le due cose. Quindi, comunque, chi volesse approfondire questo tema, il seminario sarà a Torino, venerdì 10 gennaio 2020 alle 20.45, il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo che, inoltre, chi non può seguire i corsi può abbonarsi al canale Massimo Terramasco, andando sulla home page con un computer del canale Massimo Terramasco si può abbonare e lì, quindi, potrà accedere, ad esempio, alla registrazione dei corsi se fa a livello top, oppure potrà comunque accedere a livello basic lezioni mirate. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao a tutti!